Siccome l'ho tirato un po' dietro, l'ho fatto prima a vivere, mi ha detto... Perché se prima andavi a caccia, questo era abituato a fai di dover... Sì, quello lì non ne andava dalla caccia. Marco, vieni cari! Sì, 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 grazie. Appiglio! Dunque, il motore questo non è tartare, vero? Troppo tartare? Aerobeite, quello blu, no? Io, scusate, canadese, ma mi sa che punto è stato sempre inizio. Io vado a rinunciare il ferito. Sì, sì, sì. Tu aerobeite? Aerobeite, ma è un bate, un bate dell'aere. Tutto. Ascolta, ma è blu? È stata blu? Aspetta, Evolution, portano troppo. Sono belli, guarda, c'è uno qui. Allora, c'è ancora, però quella di Scela. Allora, sono motori che... Mincy è clou. C'è il Benzina e c'è anche il Novasun. Allora, sono bei motori da guardare. Però, con consistenza, incominciano già a dare problemi. C'hanno il bottone di manovella che è troppo leggero. Hanno dei problemi quei motori. Gli Evolution. Sì, sì. Li costano troppo. 190 euro. Quello che illumina 190 euro. Si, ma dicono che sono leggerini. Perché i livelli non importano. Praticamente sono prodotti fino a quella... Bonitem, è una litta merita. Eh, oh, dicono. Non bravo. 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 Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.